C'era una volta una principessa che si chiamava Ginevra. Ginevra era stata rinchiusa nella torre più alta di un castello dal malvagio mago Gargamelta. Povera me, come sono sfortunata! In questo modo mi prenderò tutte le tue ricchezze. Un giorno il cavaliere Augusto, mentre stava cavalcando nel bosco, vide la principessa affacciata ad una finestra della torre. Ginevra era molto triste ma quando Augusto la vide si innamorò all'istante e decise di liberarla. Passando nel bosco il cavaliere incontra un coniglietto e con lui decide di collaborare per liberare Ginevra. Io salverò Ginevra. Io sconfiggerò Gargamelta. Sono venuta a salvarti attraverso il passaggio segreto. Augusto sconfigge il mago Gargamelta con la sua spada lucente. Quando il cavaliere e la principessa si vedono decidono subito di sposarsi e di partire per il regno di Augusto. Ginevra. 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 Ginevra.